Due giorni dopo parliamo della tappa del moto mondiale che ha corso in contemporanea con la Formula 1 se le auto hanno corso a Baku, le moto hanno corso a Barcellona, circuito del Montmelò quattro categorie in gioco con quattro gare dai diversi spunti e dalle diverse interazioni visto che hanno detto tanto soprattutto in ottica campionato partiamo dalla categoria regina, categoria regina che ha corso a Luna per evitare appunto la contemporaneità con la Formula 1 di Baku, una MotoGP non spettacolare, una MotoGP comunque discreta che ha visto un vincitore diverso dopo che nelle ultime gare appunto si era instaurato diciamo una sorta di dominio di Fabio Quartarò, vince Miguel Oliveira su KTM ufficiale e torna la vittoria dunque il pilota portoghese alla terza vittoria della carriera in classe regina le ultime due sono arrivate entrambe l'anno scorso quando appunto il portoghese era su KTM clienti KTM in questa tappa di Barcellona è comunque cresciuta come moto non era ovviamente la moto migliore in pista perché obiettivamente Quartarò come pilota e pacchetto in generale ne aveva qualcosa in più e onestamente la gara tranne per un inconveniente di cui parleremo dopo mi sembrava proprio come dire quasi in mano al pilota francese che è vero è stato molto dietro a Oliveira però l'impressione è che a un certo punto negli ultimi giri Quartarò potesse ambire al sorpasso e alla vittoria su Miguel Oliveira invece è stato bravo Miguel Oliveira che comunque ha avuto un bel passo ha dimostrato comunque di essere un pilota che con la moto giusta può ambire alle posizioni di vertice ed è comunque un successo importante per KTM che dunque si inserisce nel albo d'oro di questo mondiale come terzo costruttore diverso in questo campionato perché appunto oltre a Yamaha e oltre a Ducati si inserisce la casa austriaca che comunque con le moto ufficiali ha fatto una più che discreta figura coronata appunto dalla vittoria del portoghese Miguel Oliveira il grande rivale appunto era Quartarò che però per un inconveniente che adesso andiamo a vedere è stato comunque retrocesso e inizialmente penalizzato per un qualcosa che onestamente io non ho mai visto da quando seguo le corse auto-moto non fa differenza ma soprattutto moto in questo caso di fatto Quartarò deve abdicare al podio e lascia di fatto strada libera al suo diretto rivale per il mondiale che è il suo conterraneo o meglio connazionale Johan Zarco Quartarò dovrà correre gli ultimi tre giri con la tuta aperta cosa anche molto pericolosa considerato che appunto come vedete non ci sono altre protezioni sul corpo del francese Quartarò che deve fare di fatto gli ultimi tre giri in queste condizioni rallentando notevolmente il suo passo e dunque di fatto abdicando a quello che poteva essere un podio se non una vittoria perché appunto come dicevo prima Quartarò mi ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più anche una volta rispetto alla concorrenza oramai è ovvio che il buomo da battere è il pilota francese e un mondiale è comunque indirizzato verso Quartarò, verso Nizza in particolare anche perché Quartarò in qualificazione è sempre uno dei migliori e in gara spesso concretizza il discorso vale evidentemente per lui non per le altre Yamaha anche se oggi Vignale si in realtà ha fatto meglio ma quello che appunto è l'immagine emblema di questo Gran Premio più che la vettoria di Oliveira che comunque è storica ed è importante è questo handicap della tuta aperta di Quartarò che di fatto lo relega fino alla sesta posizione alla fine in realtà Quartarò ha chiuso quarto la gara di Barcellona ma poi appunto viene penalizzato di altre due posizioni e di conseguenza la classifica del campionato è la seguente Quartarò rimane in testa a quota 115 punti ma Zarco che comunque ha fatto secondo va a quota 101 dunque il distacco si riduce a meno 14 dopo che Zarco aveva di fatto aumentato il proprio distacco da Quartarò nella ultima gara del Mugello ci sono comunque due ducati sul podio perché appunto la Pramac che è una moto semi ufficiale vi ricordo a sto giro batte la moto ufficiale di Jack Miller che comunque fa ancora una volta terzo in quella che è senza dubbio la miglior stagione della carriera è un mondiale che appunto come appunto dicevo sembra indirizzato verso Quartarò probabilmente le due ducati Zarco e Miller sembrano essere evidentemente i contender principali appena sotto c'è Francesco Bagliaia che anche oggi ha fatto una gara in realtà non propriamente esaltante ma dopo lo zero del Mugello seppur viziato da una condizione mentale non propriamente idilliaca causa anche la morte di Dupaschi che ha finito settimo lasciando appunto lo sfogarsi i vari Miller i vari Zarco e i vari Oliveira e Quartarò gli altri piazzamenti importanti sono appunto una Yamaha che quanto meno con il team ufficiale fa una prestazione dal punto di vista del risultato molto interessante perché primo Quartarò meglio Quartarò era nelle prime posizioni poi verrà retrocesso ma comunque era la moto migliore quella del francese e l'altro diciamo rinato tra virgolette è Maverick Vignales che dopo quattro gare orrende tra Fortimau e Mugello si risolleva e fa quinto in una gara che comunque l'ha visto per una volta lottare va detto che Vignales rimane anche una volta un eterno incompiuto perché appunto come gli altri anni scorsi ha fatto l'expo all'inizio per poi plafonarsi su queste posizioni qui ha fatto uno step in avanti dopo la mediocrità delle ultime gare fa primi cinque e Vignales vi ricordo che peraltro ha cambiato capotecnico e di conseguenza potrebbe già essere amputato a questo cambio soprattutto dal punto di vista morale il piazzamento importante di Maverick Vignales sesta posizione appunto per Fabio Quartarò che appunto per via della vicenda della tuta aperta è stato penalizzato dalla quarta posizione sul traguardo alla sesta sul fondo settimo abbiamo detto è Francesco Bagnaia ottavo è Brad Binder con una KTM ufficiale che comunque ha fatto una ottima gara per quanto riguarda appunto la casa austriaca non ci si aspettava una crescita nonostante qualche gara precedente fosse nell'anonimato Binder un pochino meno bene rispetto al Mugello ma comunque sempre tottenco costanza per il pilota sudafricano non ha posizione per Franco Morbidelli che corre con una moto dell'anteguerra rispetto ai contender che fa una ottima prestazione Morbidelli ricordo corre con una Yamaha cliente nel 2019 mentre tutti gli altri i piloti Yamaha corre con una moto ufficiale e spesso Morbidelli fa meglio sia di Vignales sia di Valentino Rossi mistero per il che Morbidelli non abbia una moto ufficiale e chiude la top 10 il sempre idolo Enea Bastenini il best di Rimini che comunque alla sua stagione da Ruki si sta dimostrando assolutamente un pilota sul pezzo che può fare punti con costanza in moto cpi e con una moto clienti perché il Dima Vintia corre con una Ducati anche quella molto vecchia del 2019 effettivamente fare sempre top 10 o comunque fare punti con costanza o più o meno nonostante due zeri reputa evidentemente Bastenini come il Ruki dell'anno è comunque una vittoria una gara meglio di Barcellona che non dà ancora una volta lo strappo decisivo per il mondiale anche perché Quartaloro ha perso punti è stata la gara un po' degli altri che hanno accorciato su Quartaloro perché Zarco appunto ha fatto secondo i Miller Terzo e con Quartaloro Sesto questi punti recuperati sono fondamentali e c'è finalmente gloria per un pilota molto talentuoso come Miguel Oliveira che appunto c'entra la terza vittoria dell'anno in MotoGP e per lui suona la portoghesa l'inno nazionale portoghese concludiamo la griglia degli italiani con gli altri piazzamenti appunto abbiamo in ordine di classifica del campionato Danilo Petrucci che ancora una volta si è ritirato ed è ormai l'ennesimo segnale di una stagione un po' al diario del tramonto per quanto riguarda il pilota Umbro Luca Marini finisce dodicesimo ancora una volta però battuto dal suo compagno di squadra ultimo a punti Lorenzo Savadori quindicesimo quindi anche per lui c'è una crescita con una moto comunque inferiore rispetto alle altre come l'Apriglia che si ha le punte di Alessio Spargarò ma spesso non ha mai avuto un secondo pilota anche Savadori tecnicamente non lo è più un collaudatore ma comunque pian piano con esperienza Savadori sta facendo assolutamente esperienza dunque bravo a rimanere in piedi e arrivare a punti in una gara peraltro eliminazione perché appunto sono rimasti semplicemente 15 piloti ad arrivare al traguardo ultimo italiano da considerare è Valentino Rossi che ancora una volta è caduto in una gara che per la verità era anonima esattamente come tutte le altre di questa stagione la caduta in realtà non fa cambiare opinione a me per quanto riguarda appunto l'andamento della stagione 2021 del pilota Umbro così come non mi fa cambiare idea la stagione di Mark Marquez che non è ovviamente neanche lontanamente alla condizione migliore purtroppo ancora una volta cade in una maniera in realtà molto semplice per le altre cadute che abbiamo visto e obiettivamente miette definitivamente una pietra tombale sopra alle residue speranze di avere dei piazzamenti interessanti va dato qualche illusione a Portimao e a Rez della Frontera di tornare a punti con costanza e poi i tre zeri consecutivi lo tolgono evidentemente dalla corsa al titolo del mondo è tornato per concludere Jorge Martin che ha fatto una buona quattroissima posizione quattroissima posizione in realtà un po' viziata da una caduta nel warm up lap ora tempo di dare i premi prima di passare alle altre categorie perché c'è tanto di cui parlare soprattutto per Moto2 e anche Moto3 è difficile dare un rider del giorno se non ovviamente a chi effettivamente ha vinto perché già la gara della MotoGP a mio modo di vedere non è stata spettacolare ho detto è stata una gara discreta ma Miguel Oliveira comunque dimostra di essere sempre stato un pilota di talento e appunto lui merita il titolo di rider del giorno Miguel Oliveira comunque non è un pilota che viene dalla strada non è un pilota fermo aveva già dimostrato in passato di valere le prime posizioni nelle categorie inferiori in particolare in Moto3 ha perso un titolo contro Danny Kent che si sta un po' cercando di rilanciare nel British Superbike mentre Oliveira ha già vinto tre volte in MotoGP segno probabilmente che quel mondiale conteso con l'inglese Danny Kent l'avrebbe assolutamente meritato lui passiamo adesso alle altre categorie perché obiettivamente anche lì ci sono degli indizi importanti per i vari campionati del mondo a cominciare dalla Moto2 dove abbiamo la seconda vittoria consecutiva di Remy Garner che dopo il Mugello c'entra anche la vittoria a Barcellona a Catalunia è una settimana molto importante per il figlio di Wayne perché verrà promosso in MotoGP l'anno prossimo andrà nel team Tektrois ed è questo uno dei motivi per il quale Danilo Petrucci probabilmente ha già la porta chiusa per quanto riguarda il proseguo della carriera quantomeno in KTM vedremo se in MotoGP per Petrucci si parla un domani di entrare in Superbike dall'anno prossimo invece Remy Garner andrà nel team clienti KTM Tektrois che comunque ha tanti piloti potenziali da schierare a fianco a lui a partire dal suo compagno di squadra ovvero Raul Fernandez e questa gara di Barcellona Catalunia ha evidentemente ancora una volta indirizzato sempre di più il mondiale a una contesa a due tra i due alfieri del team Red Bull KTM anche una volta perché come al Mugello Garner fa primo e per Fernandez c'è il secondo posto due piloti veramente in questo momento una spanna sopra chiunque altro ed è effettivamente di fatto una gara difficile in Moto2 quando effettivamente vai a lottare soltanto di fatto per il terzo posto per Remy Garner è la seconda vittoria addirittura in carriera in questa stagione consecutiva e per lui ancora una volta suona Advance Australia Fair terza posizione invece per una grande sorpresa ovvero Ciavi Vierche con il team Petronas che di fatto è il team cliente della Yamaha SRT che c'è in MotoGP Vierche è un pilota di molto talento in realtà ma che in questo momento non ha mai concretizzato quanto di buono ha fatto vedere negli anni passati ed è il primo podio stagionale in una gara comunque contesa con il migliore degli italiani ovvero Marco Bezzecchi che comunque ancora una volta dimostra anche lui di essere costante ma contro questo Fernandez e contro questo Garner che comunque come vedete hanno un ruolo di marcia superiore a Bezzecchi è veramente difficile cercare di spuntarla Bezzecchi potrebbe spuntarla ovviamente se riesce a trovare un passo più importante in qualificazione e soprattutto un passo gara costante al livello di Garner e Fernandez oppure ovviamente sfruttare episodi favorevoli vede per esempio una caduta di entrambi i contenders probabilmente questa è la gara che poi taglia fuori dal mondiale Sam Lowes che sfrutta un ritorno in top 10 comunque con dei punti ma ovviamente 75 punti con 239 di Garner sono effettivamente troppi secondo me da sanare già in una situazione di campionato che vede praticamente un terzo del campionato fatto poco più Lowes effettivamente paga i due zeri al Mon e al Mugello gli altri italiani per quanto riguarda la zona punti abbiamo in ordine della classifica del campionato un Tony Arbolino che finisce tredicesimo e sta crescendo ancora una volta sempre di più il pilota di Garbagnate milanese ultimo italiano a punti è Celestino Vietti in una di fatto ecatombe per i piloti italiani che si hanno bezzecchi competitivo hanno di Gian Antonio che però si è ritirato tutti gli altri italiani sono effettivamente after the music la sorpresa evidentemente però di questa gara di Catalunia è l'olandese Bob Schneider che a un certo punto stava addirittura lottando il podio con un team non probabilmente superiore agli altri colossi della Moto2 e invece comunque ancora una volta l'olandese fa il suo secondo piazzamento nei primi sei consecutivi nelle ultime tre gare ovviamente dopo ovviamente il quinto posto della mano arriva il sesto posto di Catalunia quindi il mio rider del giorno della Moto2 è dell'olandese Ben Schneider parliamo invece della Moto3 che ha più spunti ovviamente della Moto2 e anche della MotoGP perché è stata una gara spettacolare in tutti i sensi va detto però che ancora una volta la Moto3 ha dimostrato di essere una categoria abbastanza pericolosa e con abbastanza uso un eufemismo abbastanza forte perché ancora una volta abbiamo visto degli incidenti pericolosi in particolare questo di John McPhee che al giro numero 10 se non sbaglio della competizione finisce largo alla prima curva la moto va sulla traccia di asfalto verde che fa riprendere grip alla moto che rientra in pista e al momento il pilota segue la moto nella car della pista in una parte di tracciato abbastanza pericolosa del circuito di Catalunia e per poco evidentemente succedeva ancora una volta il patatrack in realtà nello stesso incidente sono stati coinvolti sia Andrea Migno che Tazuki Suzuki ma questo è un incidente molto pericoloso soprattutto perché per la dinamica si può obiettivamente pensare anche a molto peggio che un incidente normale nelle MotoGP ed è abbastanza come dire strano che tutta questa caterba di incidenti pericolosi perché non è questo l'unico incidente pericoloso quello di McPhee sia capitato una settimana dopo la morte di Dupasquier appunto dovuta a dinamiche di gruppo inevitabili in questa Moto3 ma che evidentemente dovrebbero essere riviste in qualche modo l'altro incidente grave è capitato di fatto all'ultimo giro con appunto anche qui un contatto a 3 dove ad averne la peggio è stato Ayumu Sasaki che è stato comunque trasportato in ospedale per fortuna Sasaki non ha riportato conseguenze e sta bene ma questi due incidenti sono un grosso campione d'allarme soprattutto perché settimana scorsa per queste dinamiche di gruppo per queste cadute che sono controllate per la maggior parte dei casi ma c'è sempre quella componente di inevitabile che insomma rende ancora queste cadute di gruppo molto pericolose effettivamente fanno ragionare sul come si può effettivamente controllare questa cosa in una Moto3 che inevitabilmente va a creare dinamiche di gruppo rendendo nella maggioranza dei casi le gare spettacolari come effettivamente queste di Barcellona certo vedere tanti incidenti di cui uno mortale in una settimana obiettivamente deve far riflettere la gara effettivamente c'è stata come dicevo è stata effettivamente una gara bella una gara involata risolta appunto da Sergio Garcia che vince la sua seconda gara della stagione in Moto3 su Gas Gas seconda posizione per Jeremi Alcoba e terzo per appunto Jaume Masia sul traguardo Masia che poi in realtà verrà penalizzato questa è la gioia di Sergio Garcia per cui suona il suono nazionale la marcia reale l'inno spagnolo appunto Masia verrà poi penalizzato e quindi viene meno la tripletta spagnola appunto perché il pilota di KTM meaio viene di fatto penalizzato per aver oltrepassato spesso i limiti della pista e dunque finisce quarto ne fa le feste Denis Honku il fratello di Can al primo podio della carriera anche lui Honku corre con un team semi-ufficiale di KTM ovvero il Red Bull KTM Tech 3 stesso team che è in MotoGP Masia finisce quarto vince Garcia che si pone ancora una volta come secondo contender diciamo del titolo del mondo a discapito comunque di Pedro Acosta che oggi ha fatto una gara di rimonta ma finisce semplicemente settimo nonostante partiva venticinquesimo a momenti si giocava anche la vittoria ma 120 punti per il rookie che ha fatto una partenza straordinaria nelle prime quattro gare sono comunque tantissimi considerato appunto che Sergio Garcia è praticamente a 39 punti di stacco piazzamenti degli italiani è stata di fatto una ecatombe per appunto i nostri portacolori perché Migno e Foggia di fatto sono caduti gli unici italiani a punti sono arrivati anche per via di dinamiche di tante cadute ma sono punti bassi della classifica perché il migliore è Antonelli ottavo Fenati finisce undicesimo ci sono punti per Stefano Nepa che finisce evidentemente decimo e ci sono punti anche per Elia Bartolini che finisce quattordicesimo alla seconda gara della carriera in Moto3 ma è ancora una occasione fondamentale per dire che gli esperti italiani della Moto3 effettivamente fanno molta fatica in generale non sono questi punti di basso e con costanza a rendere felice secondo me le stagioni di Fenati Antonelli Migno e compagnia al netto degli episodi di questa gara che appunto li hanno condizionati nonostante fossero evidentemente nel gruppo di testa c'è stata anche una quarta categoria che ha corso a Barcellona a Montmelò ed è la MotoE dove celebriamo la prima vittoria in carriera di Michael Pons non solo in questa categoria ma evidentemente in una gara qualunque del Moto Mondiale questa è una gara molto interessante una gara curtissima corsa su sei giri vinta e involata dal pilota spagnolo che dunque vince la prima gara in carriera e si riscatta dopo non essere nemmeno partito Aleman causa una caduta nel giro di warm up anche per Pons sono alla marcia reale seconda posizione per Dominic Gerter che anche in questa categoria si dimostra uno dei piloti da battere così come in Supersport 600 terza posizione per Jordi Torres che è il campione regnante di categoria è un campionato molto equilibrato perché appunto con il quarto posto Alessandro Zaccone difende la leadership del campionato seppur per un solo punto 54 contro 53 di Gerter terzo è Torres a 93 segue poi Michael Pons a 36 sfortuna tanta sfortuna per Mattia Casadei pilota italiano del team 58 squadra corse e anche per Erika Granado che sono caduti in questa competizione ci sono risultati di culto da segnalare come per esempio Joni Hernandez che effettivamente è scongelato dal frigor finisce quinto incredibile prestazione del pilota colombiano con un gran passato in realtà in MotoGP era un pilota comunque da punti di concostanza gli altri italiani settimo Matteo Ferrari che è il campione vi ricordo della prima direzione della Moto E nel 2019 Kevin Zannoni che è il campione italiano del Civ tre volte finisce dodicesimo e quattordicesimo finisce Andrea Mantovani come ultimo nostro portacolori solita pensita da fare sulla mia Maria Herrera che ancora una volta finisce punti va detto che in Moto E è molto facile finire a punti perché è vero vanno a punti in 15 ma partono comunque in 18 in ogni caso Maria Herrera con la sua guida pulita ancora una volta porta la moto al traguardo e finisce undicesima non a posizione in campionato per la pilota spagnola 18 punti per colei che vedremo anche questa settimana a Misano a correre con la Super Sport 300 anzi 600 obiettivamente mentre colgo l'occasione per ricordarvi racing podcast domenica della Superbike ma semplicemente perché sarò a vederla direttamente io dal vivo a Misano Adriatico e dunque arriverà un vlog reportage live appunto dal circuito romagnolo per quello che sarà la due giorni della Superbike e categorie limitriche dunque aspettatevi probabilmente tra lunedì e martedì un bellissimo vlog che appunto pubblicherò con le sensazioni e i commenti dal vivo dall'autodromo Marco Simoncelli intanto questa è la classifica della MotoGP aggiornata alla vittoria di Oliveira che sale al settimo posto assoluto della classifica generale ma il leader è ancora Fabio Cortarò a mio avviso ancora una volta il favorito per il titolo del mondo in MotoGP nonostante una gara abbastanza condizionata dalla sfortuna e dalle penalizzazioni fatemi sapere cosa ne pensate il saluto da parte di Meteoto Hargard ci vediamo al prossimo video